Scelgo di fare la spesa online per praticità e per frutta e verdura scelgo cortiglia per la freschezza e la qualità del prodotto. Mi piace perché mi portano la spesa a casa, è comoda, mi posso fidare della loro qualità, della freschezza, è come averla presa in una fattoria o da un produttore diretto perché il profumo è ancora proprio fresco. La frutta e la verdura sono talmente alti come qualità che mi durano due settimane e non ho nessuno spreco. Spendo leggermente di più rispetto a un supermercato ma non butto via mai niente. E poi grazie a cortiglia ho conosciuto anche produttori vicino a casa mia che fanno panettoni per esempio per Natale e mi sono ancora più invogliata ad acquistare con loro perché so di aiutare produttori vicino a casa mia.